Quando vi svegliate la mattina, cosa vedete fuori dalla vostra finestra? Io vedo dei campi coltivati che si estendono sulle colline. Ebbene sì, ci troviamo a Buonalbergo. Eccomi, mi chiamo Donatella e oggi vi mostrerò un pezzetto della mia vita e vi farò conoscere i miei posti preferiti. Grazie a tutti. Avete visto un po' della mia vita, ma c'è ancora tanto da conoscere.